8 coppie stanno per affrontare la più grande avventura della televisione. Siamo nel deserto, non so se sei resa conto. 40 gradi, questo coso in testa. Excuse me. E' da ieri che non magno, ho dormito sopra il tavolo. Ma non sei il sole. E elimina il più forte. Tu mi fai diventare isterica. Vamos. Antimino ragazzi. Ci stanno i gabbiani, le terrazze che hai parabole. Eccola, eccola. Pechino Express. Do you know? Yes. Pechino Express. Avventura in Africa. Da giovedì 20 alle 21.20. Rai 2.